eccoci buongiorno buongiorno a tutte e tutti come va ci siete ecco ci colleghiamo qualche minuto prima così nell'attesa arrivano un po tutte e tutti come oggi ci siamo siamo in tanti buongiorno carmen barone giuseppe monti maura allegretta noemi bene da palermo vedo che siete sempre presenti e mi fa molto molto piacere aspettiamo come sempre qualche minuto io nell'attesa vi saluto come state nella chat potete scrivere scrivete anche la vostra buongiorno marco se avete voglia di scrivere la vostra città so che oggi ci sono collegati tantissimi ragazzi e ragazze da di diverse parti del sud italia centro e nord dalla sicilia so che c'è piazza armerina palermo riposto in puglia ruvo di puglia ecco voi di molfetta poi c'è cremona su in alto fidenza come state ragazzi a fidenza come voi siete zona rossa perugia buongiorno da voi da perugia con l'istituto scrive ciao max come va perugia non siamo un gelli buongiorno corato buongiorno ecco vedo che stiamo aumentando aspettiamo ancora un po buongiorno pietro aspettiamo aspettiamo ancora qualche minuto come già ho detto alle 9 30 quindi abbiamo quattro minuti se nel frattempo volete prepararvi ci sono i ragazzi e le ragazze di latina che saluto anche voi ciao ludovica e oggi abbiamo un ospite davvero davvero importante e per quello che il suo ruolo istituzionale ma soprattutto per quella che la sua storia molto importante so che vi potrà aiutare servire moltissimo per cui non vedo l'ora di iniziale ok vedo che stiamo aumentando aspettiamo un attimino io bevo un bicchier d'acqua nel frattempo sentite suonare dalla finestra sicuramente qualcuno giù buongiorno pietro buongiorno gioni buongiorno a tutti ecco stiamo aumentando aspettiamo il ancora due tre minuti esatti e si parte oggi sarà tra l'altro l'ultimo incontro e tra quelli programmati adesso poi non sappiamo se oggi pomeriggio domani ci verrà voglia di crearne qualcun altro per aprile o maggio però con oggi si conclude questo percorso che va avanti da ottobre abbiamo incontrato tantissime alcuni alcuni di voi hanno seguito ognuna delle live organizzate quindi io vi ringrazio sin da ora buongiorno rocco andrea giovanna da salerno come va salerno voi siete in zona rossa in questo momento poi c'è sempre qualche simpaticone quello non manca mai che magari il mondo è fatto di tante persone per cui c'è c'è chi gli scappa la mano come dire stefano bucci ruvo di puglia buongiorno stefano andrea mantovani bene due minuti esatti e si parte nel frattempo vi condivido un link che vi faccio vedere adesso che cos'è questo link porterà ad una pagina che racconta di un progetto che ho conosciuto e che vorrei condividere con tutte voi e tutti voi ci è stato chiesto di poter sostenere questa iniziativa ma soprattutto ho deciso e abbiamo deciso di sostenerla perché è un'iniziativa che parla di prevenzione verso i giovani e gli adulti in tema di alimentazione è distante dal tema che affronteremo oggi però questa esperienza è davvero valida e in questa nostra ultima giornata volevamo condividerla con voi adesso nella chat a qualcuno dice mirko dice fatelo durare di più troppo bello il progetto grazie mirko e chissà magari ci pensiamo vi dicevo ho conosciuto questo progetto che nasce a torino da tante persone che hanno voglia di portare avanti un percorso di sensibilizzazione intorno al tema dell'alimentazione per la prevenzione al cancro e allora abbiamo deciso di condividerlo con voi stanno partecipando a questo contest molto interessante di reale foundation e non so basta un piccolo link un piccolo click per poter votare questo progetto e dare a loro l'opportunità di realizzare questo progetto appunto che noi riteniamo estremamente valido per cui non so se già compare nella chat ve lo stiamo mandando eccolo qui vedete Andrea Romano ha cliccato basta cliccare lì su seguire le indicazioni poi ci sarà una mail vi chiederanno di confermare andate chiaramente a leggere il progetto con calma poi per conoscerlo meglio perché merita e fatelo cliccate adesso ve lo ricorderò poco prima aspettiamo ancora un po' e poi si parte aspetto delle indicazioni vedo ecco qui votare alle foundation è davvero un percorso il progetto si chiama percorso evoluto per adottare delle sane abitudini alimentari contro il cancro per tutti in qualche modo tanti di noi famiglio tra amici parenti o conoscenti abbiamo vissuto e viviamo questa questo incubo spesso e quindi il tema dell'alimentazione è davvero molto molto importante per cui loro stanno portando avanti questa riflessione questo grande lavoro di gruppo con la loro associazione e non so io ho deciso che merita davvero di essere raccontato per cui andate a dare un'occhiata man mano ogni tanto comparirà questo link cliccate su e sostenetelo basta un click non serve nulla basta un voto e a loro manca poco per poter realizzare questa questa loro casa per le loro esperienze che saranno poi condivise con tutti tra l'altro l'idea era anche quella di provare a condividere insieme a voi un giorno una live intorno al tema dell'educazione alimentare benissimo io direi che sono le 9.31 possiamo iniziare e so che qualcuno arriva sempre un po' in ritardo ma nel frattempo se ci siete tutti possiamo mandare la sigla ecco vedo che sta aumentando il numero delle visualizzazioni quindi aspettiamo un attimo magari arriva qualcuno nel frattempo se avete voglia come sempre lo ricordo di seguire il nostro percorso e di rivedere le live insieme alle vostre insegnanti alcuni insegnanti mi hanno scritto dicendomi che stanno condividendo con tutte voi anche le live precedenti quelle che abbiamo organizzato da ottobre e sono molto contento di questo e quello tutte le registrazioni rimarranno tutte sul nostro canale per cui potete condividerle con i vostri compagni insegnanti colleghi e colleghi ci sono diversi temi che trattiamo per cui fatelo sono molto contento di questo per cui iscrivetevi al canale tra l'altro e così potrete essere aggiornati e dare un impulso anche di positività al lavoro che stiamo facendo che per noi è nuovo ma lo vogliamo portare avanti insieme a voi in attesa di ritrovarci a teatro da ottobre in avanti e forse anche d'estate bene 9.32 io direi di non perdere altro tempo e di partire partiamo con la nostra benissimo buongiorno a tutte e tutti come state io sono molto molto contento di essere qui oggi in questo 25 marzo che è la nostra ultima giornata di live che abbiamo deciso di condividere con voi siamo partiti a ottobre all'inizio con mille problemi tecnici incrociamo le dita speriamo oggi di non avere problemi tecnici e di proseguire in avanti anche perché oggi manca tra noi il nostro regista Andrea Romano che è impegnato a Torino nell'ambito dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo quindi lavora a Torino e noi lo salutiamo perché oggi non è qui con noi ma c'è Super Sonia Emilia siamo comunque in tanti qui a vivere insieme questa giornata dunque ci chiedono alcuni di sbloccare la modalità lenta e come dice infatti Andrea abbiamo deciso di tenere questa modalità perché spesso purtroppo come vediamo la chat viene utilizzata non per viene utilizzata è stato un po' male per cui magari prendetevi l'appunto della frase che volete inserire poi scrivetela e io cercherò di dare il più spazio possibile a quello che che sono le vostre idee e domande oggi è l'ultimo incontro di interviste coraggiose dove coraggiose sta per le esperienze per le donne che abbiamo deciso di incontrare intervistare per condividere insieme a voi la loro esperienza la persona che incontriamo oggi è una persona che ha una grandissima storia che io conosco da tantissimo tempo che ho conosciuto per articoli di giornale per una storia molto conosciuta e noi siamo felicissimi sia per il ruolo istituzionale che oggi ricopre in Italia che per la sua storia la storia di una donna che nel sud Italia ha deciso di dire no di denunciare come vedrete ci racconterà tutto il suo percorso è stata la prima testimone di giustizia italiana e ci racconterà lei che cos'è chi è una testimone di giustizia che è ben diversa da un collaboratore di giustizia o comunemente noto per tanti come i pentiti invece i testimoni di giustizia sono persone che hanno deciso di denunciare raccontare tutto quello che in qualche modo avevano subito perché sono vittime e quindi non collusi per cui questo ci tengo a sottolinearlo all'inizio perché racconta molto bene la persona che oggi incontriamo ed è l'onorevole Pier Aiello che fa parte della commissione parlamentare antimafia come vi dicevo è stata una testimone di giustizia ha vissuto pensato un po' per 27 anni nascosta sotto scorta sotto protezione poi capiremo meglio anche che cos'è il servizio speciale di protezione e dopo 27 anni è uscita allo scoperto ha scritto un bellissimo libro Maledetta Mafia che dopo voglio continuare a consigliarvi perché mi piacerebbe proporlo proponetelo nelle vostre classi perché è importantissimo leggerlo oltre che interessante la storia raccontata molto forte e commovente a tratti per cui vedo che ci siamo tutte e tutti io do il benvenuto all'onorevole Pier Aiello ringraziandola moltissimo per essere qui con noi sigla e partiamo di nuovo ecco qui ecco anche bene buongiorno onorevole Pier Aiello la ringrazio moltissimo per essere qui per noi è davvero un grande onore chiudere questo ciclo di incontri con lei noi conosciamo la sua storia vogliamo condividerla con tutte le studentesse e gli studenti che oggi sono qui con noi grazie buongiorno come sta intanto buongiorno a tutti io sto bene diciamo in questo periodo di pandemia già stare bene è tutto un dire e niente vi ringrazio di avermi voluta in questo collegamento saluto tutti i ragazzi tutte le persone che ci stanno ascoltando e niente partiamo in questa chiacchierata che faremo con questa finestra comune che adesso ci appartiene un po' a tutti perché non essendo non potendo essere di persona diciamo che è un bel modo per comunque parlare delle situazioni e delle problematiche sì noi infatti la ringraziamo moltissimo siamo davvero più che certi che sarà per tutte le ragazze i ragazzi di grande ispirazione ci sono condivido con lei un po' di città che sono collegate con noi da Palermo da Piazza Armerina c'è Riposto giù in Sicilia tantissimi ragazzi ragazze dalla Puglia dalla Calabria dall'Emilia Romagna Lombardia Veneto Piemonte ci sono moltissime regioni studenti che hanno seguito da ottobre fino ad oggi questi incontri quindi io sono davvero contento di poter presentare lei a questo piccolo pubblico che ci sta seguendo oggi di qualche migliaio di studenti la prima domanda che voglio rivolgerle è questa che cos'è essere una testimone di giustizia parliamo oggi a ragazzi che hanno dai 14 ai 17 18 anni alcuni conoscono la sua storia perché le insegnanti hanno condiviso con loro altri la conoscono un po' meno ma oggi la conosceranno per cui che cos'è una testimone di giustizia e poi man mano entriamo nella sua storia essere un testimone di giustizia non è come si può dire uno status perché tu decidi di essere testimone ma bensì io dico della mia storia mi sono trovata in una coinvolta in una famiglia mafiosa perché dovevo per forza stare in questa famiglia in quanto sono stata minacciata da mio suocero che se non sposavo il mio ex marito insomma avrebbe fatto del male alla mia famiglia da lì vivendo quasi dieci anni quella situazione ho deciso subito dopo la morte di mio marito di denunciare chi lo aveva ucciso di denunciare alcune famiglie mafiose della valle del Belice perché io sono di Partanna provincia di Trapani e da lì allora il mio magistrato di riferimento era Paolo Borsellino e siccome la pesantezza delle mie dichiarazioni non lasciavano dubbi su di che cosa stavo parlando perché calcolate che questa cosa è successa nel 91 una vita fa quasi da brontosaurio ormai sono più di 30 anni e niente lui decise di inserirmi in un programma di protezione proprio per tutelarmi e da lì sono diventata testimone calcolate che nel 91 non esisteva la figura del testimone non esisteva addirittura il servizio centrale di protezione quando sono entrata io c'era l'alto commissariato che era un unico calderone dove stavano sia i testimoni che i collaboratori i collaboratori sono coloro che hanno commesso reato che decidono di collaborare con la giustizia ma comunque persone che diciamo non sono proprio pulite invece il testimone è colui che non ha mai commesso reato che denuncia anche se in uno stato di diritto denunciare è un dovere di ogni cittadino 30 anni fa nelle terre siciliane nel trapanese dove ancora oggi c'è un latitante molto importante che è Matteo Messina Denaro non era molto facile e da lì sono diventata testimone di giustizia e sono entrata in questo programma grazie ma le domande io ho avuto modo di ascoltare alcune sue interviste in questi anni e mi ha sempre colpito moltissimo un aspetto che lei ha condiviso c'è una bellissima intervista a Sandro Ruotolo per Fanpage che ho avuto modo di ascoltare dove lei racconta quello che è accaduto nel 1991 io sono cresciuto in un paesino alle pendici dell'Etna ho provato a immaginare i momenti l'idea di lei aveva una pizzeria vorrei condividere questo con tutte le ragazze e improvvisamente entrano nella sua pizzeria quattro uomini armati e cominciano a sparare e vorrei se avesse voglio un po' di condividere con i ragazzi cosa si prova cosa si prova a vivere in quel periodo in Sicilia e vivere da ragazza perché lei era appena una ragazza in quel momento un'esperienza di questo genere le farò delle domande che possono magari in qualche modo suscitare un po' di curiosità nelle studentesse e smuovere delle riflessioni anche di coraggio in qualche modo quindi cos'è accaduto in quel giorno sia voglia di raccontarcelo come l'ha vissuto più che altro allora voglio fare una premessa io provengo da una famiglia molto semplice io amo dire una famiglia di pane e cipolla perché noi eravamo mio padre era muratore mia madre era una sarta una famiglia semplice una famiglia che non aveva mai avuto nessun contatto vero e proprio con il sistema mafioso ma poi calcolate che 30 anni fa non si parlava proprio di mafia non è come adesso a scuola mia si parlava di argomenti importantissimi ma sicuramente non di mafia anche se eravamo in un paese ad alta densità mafiosa perciò io sono cresciuta in un paesino diciamo a prima vista tranquillo perché allora si diceva quando moriva qualcuno dei mafiosi si ammazzano fra di loro ma dopo nel passare degli anni il po' si non è stato perché questi spingerciano il paese dove sono morte tante persone che passavano per caso vittime innocenti praticamente in quegli anni fine 80 90 era un far west la mattina prima che uscivi da casa anche semplicemente per fare la spesa ci pensavi due volte perché eravamo in un contesto veramente brutto mio padre poi è gelosissimo noi siamo due sorelle mio padre sai quelle persone di una volta siciliane che tutelavano le figlie le tenevano vattate perciò bene o male noi non non avevamo contezza della realtà di quella situazione il problema si pone quando poi io ho conosciuto Nicolà Atria che era il figlio di un boss mafioso inizialmente sai mi sembrava una storia come quella di fidanzatini come si come è adesso però diversamente perché adesso magari tipo io vedo i miei figli escono con l'amico l'amica si frequentano allora figurati se mio padre mi faceva uscire con il mio fidanzatino non esisteva il mio padre poi è gelosissimo persone di altri tempi tutto un pezzo e quando inizio a frequentare Nicola dopo un po' mi accorgo che quella famiglia non era proprio come la mia perché a casa mia si condivideva tutto si decideva insieme invece lì c'era il padre che decideva tutto tutto quello che succedeva nella sfera familiare e quando mi rendo conto fra l'altro che c'era qualche nota stonata e un uccellino diciamo mi viene all'oreggio e mi dice ma come tuo socio è un mafioso e tu stai in quella famiglia e lì inizio a farmi delle domande anche se avevo 15 anni io sono sempre stata come adesso che ne ho 53 e sono sempre stata curiosa e sono andata direttamente da Don Vito Atria e ho chiesto perché venisse chiamato boss mafioso lui mi dice un sacco di fesserie dicendo ah no ma io faccio il pacere di qua di là ma non era così calcolate che avevo 15 anni ma non ero stupida con dal del tempo decido che io non potevo sposare quell'uomo allora un giorno gli dico Nicola senti amici più di prima tu statene a casa tua io a casa mia non voglio non voglio assolutamente entrare a far parte di questa famiglia avevo fatto i conti senza l'oste perché dopo un po' arriva mio suocero dicendomi che non gli interessava perché io avessi litigato con Nicola quello e quell'altro ma che se io non non avessi sposato il figlio avrebbe potuto diciamo che fra le paroline sue simpatiche mi disse che tutti abbiamo una famiglia a cui vogliamo bene cioè lì mi tendeva dire che se io non sottostavo alla sua volontà la mia famiglia poteva avere delle conseguenze poteva anche essere uccisa e calcolate che in quegli anni si uccideva per ben poco oppure per uno sguardo mal riposto è stata uccisa gente lì da ragazzina mi fermo un attimo che poi avevo circa 17 anni decido di non dire nulla ai miei familiari proprio per proteggere perché mio padre si sarebbe fatto ammazzare piuttosto che farmi sposare questa persona e da lì niente mi sposo cercando di portare via mio marito da quel contesto ma lui era legato troppo a quella famiglia e anche se siamo andati in un'altra città anche se era vicino non ce l'ho fatta perché lui continuava poi subito dopo che mi sono sposata hanno ucciso mio suocero io stavo ancora in viaggio di nozze praticamente la interrompo onorevole per chiederle questo nel senso appunto un altro aspetto che mi ha colpito moltissimo che lei ripete spesso è questo tentativo da dentro di voler che in qualche modo si è sempre ribellata anche da sposata alle azioni di suo marito mi ricordo di un avvenimento in cui lei buttò via un panetto di 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 in qualche modo lei non ha accettato postando dentro questa questa condizione no io ho preso talmente di quelle botte da mio marito perché perché a casa mia non ci doveva essere niente di illecito ogni qualvolta io individuavo qualcosa che non andava come armi oppure come droga puntualmente glieli buttavo pensate quanto danno gli facevo economico e puntualmente lui mi massacrava di botte pensate che l'ultima volta che ho avuto veramente tante di quelle botte è stato quando ero incinta di otto mesi dopo aver trovato un panetto di ascisce lui mi ha letteralmente presa a calci nella pancia rischiando di morire io e la bambina che portavo in grembo però nonostante tutto io non non mi fermavo non accettavo tutto questo sapevo quello che andavo incontro sapevo che mi avrebbe massacrata ma nello stesso momento mi piegavo ma non mi spezzavo continuavo nella mia piccola lotta diciamo dentro quelle quattro mura pensate io quando dopo che ho partorito mia figlia ho fatto il concorso nella polizia di stato pensate alla felicità di mio marito quando gli dissi che avevo fatto la domanda dopo che me ne ha suonate veramente tante mi diceva vabbè ma tanto serve un poliziotto in famiglia io in quel momento gli ho detto vabbè tu spera che io non diventi mai un poliziotto perché sarai la prima persona che farò arrestare e lì non vi dico quello che mi è successo vedo una domanda di Caterina Mitolo scrivete da dove da che città ponete la domanda che dice ma come ha fatto quanta forza come si fa appunto come ha fatto da brividi scrive Giulia e cosa ho fatto perché tanta forza come ha fatto come ha fatto allora come ha fatto non lo so so soltanto che io ho un temperamento caratteriale molto forte sembro così tranquilla dolce però quando mi metto in testa di raggiungere un obiettivo o di difendere i miei valori cioè non ce n'è per nessuno io non consento a nessuno di valicare un millimetro oltre il mio territorio il mio mondo di vedere le cose e allora anche se ero ragazza ragazzina era così mio padre che è l'uomo della mia vita l'uomo che io amo più al mondo perché io l'ho sempre detto lui è proprio l'uomo della mia vita mi ha insegnato questi valori i valori di rispetto per le persone rispetto per le cose rispetto per le leggi mio padre mi diceva sempre se tu vai e cammini con la verità in tasca nessuno domani potrà dire che hai detto una bugia nessuno domani potrà dire che tu sei una falsa perché la verità è sempre quella non la puoi cambiare invece le bugie molto spesso le dimentica perché dice una cosa e poi dice ma no ma sai invece dicendo la verità anche molto spesso le verità sono pesanti sono dure ma anche sofferenza però è quello che mi ha insegnato mio papà e io l'ho portato sempre avanti lo sto insegnando ai miei figli pensate che io quando i miei figli erano piccoli gli dicevo dimmi la verità se no ti do le sculacciate e i miei figli mi diceva ti giuro ti giuro tenendosi il culetto io ti giuro che sto dicendo la verità per dire le cose si insegnano anche ai bambini piccolissimi perché è giusto che si dica la verità è giusto che si crei un rapporto di fiducia familiare che è la base di tutto fiducia familiare fiducia scolastica rapporto scuola famiglia che è la cosa più importante ma sempre con la verità ancora grazie appunto ad un certo punto lei decide di non so se dire la verità o di raccontare perché non è che stesse mentendo ma stava soltanto vivendo in una situazione estremamente complicata e decide ad un certo punto di provare a raccontare a condividere tutto quello che lei sapeva e questo è accaduto dopo l'omicidio di suo marito sì io praticamente sicuramente negli anni non potendo avere un'amica del cuore e confidargli tutto quello che stavo passando perché sicuramente se avessi raccontato tutto ciò sarebbero scappati io non ho mai avuto un'amica del cuore non avevo mai avuto un'amica del cuore perché adesso ce l'ho e ce n'ho pure più di una scrivevo tutto su dei diari io ho accumulato dieci diari per dieci anni perché ne avevo è come delle agende ogni giorno scrivevo in quei diari ma non solo di delitti mafiosi o di tresche mafiose ma pure cose mie cose che mi passavano nel cuore che non potevo dire le mie angosce i miei timori e quei dieci diari di quei dieci anni quando ho deciso di denunciare chi aveva ucciso materialmente mio marito denunciare dieci anni di tutto quello che avevo subito dai mafiosi dove tenevano le armi dove tenevano perché io sapete non partecipavo a queste riunioni ma io origliavo era una spugna assorbivo tutto e scrivevo in quei diari quando ho deciso di denunciare dopo aver assistito alla morte di mio marito che è stato trucidato con davanti ai miei occhi neanche un metro di distanza con fucile a canne mozze cosa che non si può dimenticare anche se a distanza di anni perché sento ancora i botti e la puzza della polvere da sparo quando ho assistito a tutto questo pensando che mio suocero era stato ucciso a 45 anni mio marito era stato ammazzato a 27 anni e che il mio paese era un pezzo di orfani e di vedove perché c'erano tante persone che erano state uccise ho deciso che tutto questo doveva finire allora ho preso tutti quei diari sono andata a parlare con un marasciallo dei carabinieri che si chiama Francesco Custode e mi è stato il mio primo angelo custode fra l'altro e da lì lui mi portò dopo un po' di giorni in una caserma dei carabinieri di Terrasini dove ho trovato Paolo Borsellino calcolate che io non sapevo neanche cos'era un procuratore della Repubblica non conoscevo chi fosse Paolo Borsellino non sapevo nulla per me la massima autorità era quel marasciallo di quel paese quando arrivo là trovo diverse persone sinceramente mi sono impaurita a chiappo Francesco Custode per il bavero della giacca e gli dico ma scusami ma dove mi hai portato qui mi ammazzano ho paura avevo veramente paura calcolate che avevo 23 anni ero una ragazzina una ragazzina perché non ero mai uscita dal mio paese una ragazzina perché ero vissuta nella bambagia a casa con i miei genitori cioè proprio ero come si suol dire cruda una persona molto molto semplice molto alla mano e quando arrivo là e vedo quest'uomo con questo baffetto con la sigaretta a mezz'aria e vedevo che lo rispettavano tutti parlavano con un modo riverenziale a un certo punto faccio senta scusi onorevole lui mi fa no prima lui no prima lui mi dice vede che io sono a disagio perché io lì mi sono tipo bloccata e mi dice buongiorno io la saluto fa lui piacere mi chiamo Paolo Borsellino ma lui aveva questo accento palermitano molto forte e faccio veramente lei con questo accento mi sembro mafioso e lui scocchia a ridere dopodiché faccio senta scusi onorevole io veramente alt mi fa lui con tutto rispetto parlando per la categoria me la stengo bene dall'essere un onorevole sono un semplice procuratore della repubblica però per evitare che tu mi dica qualche altro appellativo che magari non mi piace chiamami zio Paolo e non se ne parla più perché tu hai la stessa età di mia figlia e da lì io l'ho sempre chiamato zio Paolo non l'ho mai chiamato in altro modo ma perché lui non so se qualcuno di voi ha letto la lettera di Manfredi che ha scritto per suo padre dopo che è morto lui era così lui era non solo un uomo dello Stato non solo un procuratore della Repubblica lui era umano lui era il padre che tutti vogliamo avere lui era lo zio di tutti la spalla dove io ho pianto la spalla dove io ho inveito perché inizialmente tutto questo mi sembrava paradossale quello che stava succedendo perché appena ho iniziato a parlare subito mi hanno portata via dal mio paese io sono andata via con due borsoni uno pieno di abbigliamento e uno pieno di bambole di mia figlia trascinandomi appresso una bambina di tre anni praticamente eravamo due bambine e siamo state subito portate via io sono tornata a partanna dopo tantissimi anni scortata e non ho più potuto avvicinare amici familiari non ho potuto stare più nella mia terra io dopo vent'anni sono riuscita a dormire una notte nel mio lettino da ragazza cioè e dormire nel tuo lettino da ragazza ma cosa può essere le cose buone le cose belle le piccole cose che prima avevo le ho apprezzate in modo esponenziale dopo quando non potevo più averle perché io non è che desideravo miliardi io desideravo di dormire una notte nel mio letto ma vi rendete conto invece per 27 anni ha vissuto praticamente nascosta sì io ho un po' conosciuto alcune storie di testimoni di giustizia leggendo alcune interviste alcuni libri poi con alcuni nostri lavori e quello che mi ha sempre ma dico letteralmente scioccato è questa per un periodo storico è stata questa impreparazione nell'accogliere i testimoni di giustizia per cui spostati da una casa all'altra con altre generalità perché lei ha dovuto cambiare anche generalità quindi al nome cognome questa sensazione di paura costante nel portarsi che ci si sente addosso costantemente come ha vissuto lei questi 27 anni cosa cosa sono stati per lei questi 27 anni e com'è oggi mi chiedo tornare alla luce poter condividere finalmente direi questa storia con tantissimi perché vedo che poi hai incontrato tanti studenti studentesse io gli studenti li incontravo anche prima quando andavo nelle scuole chiedevo ai ragazzi di non fotografarmi ma stavo insieme a loro facendo una chiacchierata come un'amica perché io non voglio dire che non sono mai andata a fare l'insegnante anche se in realtà lo sono però non ho mai preteso questa cosa io andavo proprio a parlare da un'amica da sorella maggiore con questi ragazzi per fargli capire che nella vita se si vuole si può cambiare tutto questo sistema mafioso corrotto non scendendo a compromessi ce l'ho fatto per anni poi il discorso del cambio di genetà allora dovete sapere una cosa che quando ti cambiano il nome è una cosa terribile terribile perché perché iniziamo proprio tecnicamente quando molto spesso firmi non sai ti devi fermare un attimo perché non sai sotto che nome che cosa devi firmare molto spesso ho sbagliato ho dovuto accartocciare tutto e ripare da capo addirittura una volta mi è successo con un atto notarile che a posto di firmare con le nuove genetà ho firmato come Pieragiello prendo a cartoccio c'era il mio notario che mi guardava ma questa è pazza però non riesci ad abituarti a parte il fatto che io non ho mai accettato il cambio di genetà perché inizialmente dovete sapere questo non mi era stato detto che il mio cambio di genetà era definitivo io pensavo che erano dei documenti di copertura che un giorno avrei potuto riavere il mio nome e morire con il mio nome di Pieragiello perché il desiderio mio era quello che se un giorno io fossi passata a miglior vita sulla mia tomba volevo il nome di Pieragiello a lettere cubitali quando mi è stato spiegato dopo dieci anni che praticamente questo non era possibile che sarei morta in un paese X con il mio X nome che io non avevo mai accettato di lì inizia la mia guerra perché io da lì non è stato adesso che ho voluto prendere il nome questa è stata un'occasione entrando in politica di riappropriarmi nel mio nome ma io da dieci anni che facevo richieste su richieste su richieste sempre e mi era sempre stato negato perché diciamocelo il cambio di generità ti protegge io l'ho soffruito tutto quello che vogliamo però la mafia se ti vuole trovare lo stesso ti trova è una tutela tutto quello che vogliamo per carità ne ho soffruito per 27 anni però non si può morire con un altro nome in una città che non ti appartiene se un giorno mi succede qualcosa io voglio tornare almeno da morta nella mia città nel mio paese ci sono alcune domande che le rivolgo qui nella chat delle studentesse degli studenti e insegnanti prima di questo vorrei aggiungere che appunto non soltanto non bisogna far cambiare generalità ma questi sono i cittadini che bisogna costantemente portare nelle scuole condividere le loro storie far sì che gli studenti e le studentesse soprattutto vedano come modelli e non nasconderli oltre al fatto che era un sistema quello di protezione preso da un sistema americano piantato in Italia in un paesino piccolissimo questi spostamenti di due o trecento chilometri la voglio rompere un attimo la voglio rompere un attimo perché le spiego ci sono il sistema americano e il sistema Marshall questo glielo spieghiamo pure ai ragazzi che è importante i Marshall non fanno differenza fra testimone e collaboratore stanno in un unico nucleo in questo nucleo loro cosa fanno? quando una persona denuncia che sia un testimone o un collaboratore sempre dico che per loro non c'è differenza lo fanno fanno accompagnare la persona da uno psicologo per tutto il loro percorso di testimonianza nel tribunale una volta che finisce questo percorso la famiglia del collaboratore o del testimone viene automaticamente allontanata gli danno la possibilità di avere una casa e un lavoro per rinserirsi subito perché è giusto perché se no questa gente per anni vegeta in un programma il collaboratore verrà a congiungersi con la famiglia al momento in cui finisce il percorso di testimonianza in Italia invece non è così noi abbiamo un sistema che sulla carta è spettacolare il problema è che non viene applicato il problema è che testimoni e collaboratori sulla carta hanno la distinzione ma il trattamento è identico identico perché vivono per anni in un sistema a vegetare una persona magari in un programma ha 30 anni e ne esce che ne ha 50 ha 50 anni quando vuole reinserirsi lavorativamente parlando ma se normalmente uno a 50 anni viene licenziato non trova più posto ma mi dite voi una persona dopo 20 anni di letargo che non ha un curriculum vita e perché cosa deve scrivere che per 20 anni è stato testimono collaboratore ma chi ti assume non si riesce noi abbiamo fatto una legge su questo i testimoni hanno diritto all'assunzione nella pubblica amministrazione c'è una specie di capitalizzazione per chi la vuole per inserirsi nel mondo del lavoro ma non è una capitalizzazione congrua perché se un imprenditore guadagnava x non puoi tu stato dargli un piatto di lenticchie lui ha perso tutto e se tu per esempio ci sono cifre che gli danno una capitalizzazione di 80.000 euro 80.000 euro sembrano troppi ma quale attività apri con 80.000 euro manco le saracinesche e ci compri certo ma soprattutto se per esempio un imprenditore guadagnava 3 milioni al mese è lo stesso trattamento se l'imprenditore guadagnava 2 milioni di euro all'anno praticamente lo stato italiano gli riconosce 1.200 euro al mese non mi usciva perché io ancora penso pure in lire 1.200 euro al mese ora ma di grazie aspe e questo imprenditore magari ha l'impresa che gli fanno fallire le case che gli vengono abbandonate e molto spesso non acquistate dallo Stato cioè lui perde tutto tutto il lavoro che ha fatto in una vita e lo Stato non riesce a reinserirlo lavorativamente anche se c'è una legge che dice che una persona che entra in un programma di protezione deve lo Stato deve garantire la vita attuale in collegamento a quell'antecedente cioè se io ero un imprenditore tu non ti dico che mi devi dare un milione di euro all'anno ma banco la metà cioè tu Stato disattendi una legge che in vigore dal 92 nessuno e vi posso garantire perché io ho un comitato in commissione parlamentare antimafia ho dito più di 50 persone nessuno a nessuno è stato mai applicata questa legge nessuno vive la stessa condizione che ha lasciato quando è andato via la casa sua Onorevole le faccio intanto la ringrazio moltissimo nella chat ci sono tanti commenti di stima nei suoi confronti qualcuno che dice io non ce l'avrei fatta complimenti le voglio fare un'ultima domanda che parla del suo passato perché poi mi piacerebbe appunto parlare delle sue idee di quello che vive e di quello che lei potrebbe di quello che pensa appunto in riferimento a quello che sono le leggi del nostro paese non solo e soprattutto la vita degli studenti Gabriele Ricciardi chiede qual era il suo rapporto con Rita Atria è una domanda che arriva dall'ITIS di Perugia Volta le faccio quest'ultima domanda che parla del prima perché tutto quello che lei ci racconta con l'energia dell'adesso è di grande ispirazione per cui facciamo questo passo indietro per poi tornare avanti allora Rita era mia cognata la sorella di Nicola però per me è sempre stata ed è perché anche se non c'è più è perché non anche di Paolo Borsellino non parlo al passato parlo sempre al presente Rita è una mia la mia migliore amica quella quella migliore amica che io non avevo mai avuto era lei con lei quando sa che io inizio a denunciare lei sa molto più di me perché ha vissuto ancora cioè lei è nata in quella famiglia sapeva le cose di quella famiglia decide anche lei di denunciare inizialmente Rita Atria denuncia per vendetta perché essendo donna non può non può armarsi e andare ad uccidere chi aveva ucciso i suoi cari quando però incontra Paolo Borsellino ecco perché ci ha insegnato tanto ci ha insegnato che la vendetta l'odio non porta a niente che si deve sempre pensare al domani si deve pensare per pensare in positivo e quando lei incontra Paolo Borsellino capisce e inizia a non vedere tutta questa cosa come una vendetta ma bensì come un riscatto che lei voleva allontanandosi dissociandoci da quella mentalità mafiosa che aveva vissuto nella sua famiglia purtroppo la storia la sappiamo com'è quando Paolo Borsellino viene ucciso lei inizia a dirmi non capisco perché le persone che amo vengono uccise sia che stiano dalla parte del bene sia che stiano dalla parte del male e non ce la fa e si suicida buttandosi dal settimo piano di un appartamento romano e lascia tante cose scritte fra cui sulla testata del letto a forma di arcobaleno lei scrive il mio cuore senza di te non vive e lascia tanti scritti su un diario che per fortuna dopo diversi anni siamo riusciti a recuperare perché ce l'avevano in procura come atti perché c'erano anche scritte delle denunce che lei aveva fatto e siamo riusciti a recuperarle adesso ce l'abbiamo conservato in una specie di teca perché per noi è inestimabile proprio d'affetto tra l'altro la proprietaria di questo diario è mia figlia Vita Maria che è l'ultima diciamo l'erede che è rimasta di quella famiglia che lo ha conservato gelosamente e lei dice che un giorno se farà pubblicare questo diario lo farà senza scopo di lucro ma solo per darlo in distribuzione a tutti i ragazzi per far vivere l'imperdita nel cuore di tutti noi sono certo che sarà di grande importanza fatelo importantissimo questo perché quando giungono queste storie tra gli studenti e le studentesse poi muovono grandi grandi riflessioni come oggi la situazione a partanna no diciamo che quantomeno non si spara più questo è dal giorno in cui abbiamo noi denunciato non non ci sono stati più omicidi e questo già è un passo avanti dire che non ci sono più i mafiosi non lo possiamo dire perché comunque quelli che noi abbiamo denunciato 30 anni fa alcuni sono usciti e alcuni che hanno l'ergassolo speriamo che non escano con questo discorso dell'ergassolo stativo cioè un'altra battaglia che ci stiamo prestando a fare perché sono assolutamente contraria che una persona che ha ucciso centinaia di persone che ha ucciso bambini che hanno sciolto bambini nell'acido cioè non è possibile che certe persone che hanno fatto queste cose proprio di una cattiveria che non ha misura perché devono devono uscire dopo 26 anni di galera perché allora il nostro non stato di diritto giusto noi dobbiamo garantire la salute l'istruzione allora io sono andata perché non ero mai andata a fare un giro in diverse carceri italiane sono andata a vedere le celle dei 41 bis non sono sicuramente l'hotel Hilton per carità perché comunque è gente che sta in carcere perché è gente che ha commesso gravi reati perché se sei in regime di alta sicurezza sicuramente non sei andato a rubare le galline però hanno una camera per ogni persona il televisore si possono cucinare loro stessi le camere sono pulite garbate ognuno di loro ha il bagno diciamo che vivono una vita abbastanza tranquilla in più ho fatto delle domande a alcune di loro alcuni di questi signori studiano anche si stanno laureando c'è chi si diploma di conseguenza lo Stato gli dà il diritto allo studio così comunque impegnano il loro tempo perché c'è gente che ci sarà per tutta la vita là dentro curano la loro salute perché comunque vengono seguite da medici se c'è bisogno di cure particolari per chi ha malattie gravi vengono seguite non solo dentro la struttura ma anche fuori dalla struttura poi io sono andata invece lo sapete dove pure nelle celle dei detenuti comuni detenuti comuni che non sono quelli mafiosi sapete come stanno messi questi c'è gente che stanno pure 15 persone in una cella dove ho visto che ci sono bagni fatiscenti che se il detenuto entra in carcere si prende il tetano solo per farsi una doccia cioè il regime duro secondo me non è solo l'isolamento che subiscono questo è il 41 bris ma il regime duro è anche per chi ha fatto che so anche una semplice rapina che comunque è sempre un reato per carità però vivere quelle condizioni così malamente e non carcere duro durissimo e quelli non sono condannati all'ergastolo noi dobbiamo capire una cosa che l'ergastolo non è una una pena punitiva l'ergastolo è una pena che tu devi scontare perché sicuramente non sei un lato di galline ma hai ucciso tante persone noi per fortuna non abbiamo la pena di morte perché neanch'io sono per la pena di morte per carità perché la gente Dio dà la vita e Dio la deve togliere però se tu hai sbagliato e hai sbagliato veramente tanto devi capire quegli errori non li puoi fare io penso che questa cosa sull'ergastro stativo non è anche un vuoto eliminare il regime del 41 bris e questa è una cosa gravissima che sta succedendo perché questa cosa l'aveva voluta Giovanni Falcone e Giovanni Falcone non era il primo sproveduto ma è stato uno dei migliori magistrati che abbiamo avuto ed elementi più eccelsi e se lui aveva messo questa regola che se collabori con la giustizia puoi uscire da quel regime di massima sicurezza perché no ci sono tanti collaboratori ho sentito dire che c'è la cosa che sfornano collaboratori il collaboratificio si dicono loro insomma che è una cosa vergognosa da sentire perché perché chi collabora con la giustizia sta seguendo una legge italiana lo Stato gli dà una possibilità non vuoi stare al regime del 41 bis non vuoi stare all'ergastolo collabora con la giustizia è facile dire mi dissocio come? si leggo Giacomo Giacomo Mongelli scrive straordinariamente incisiva mi accodo anch'io io che uccido 100 persone non posso dire mi dissocio e poi mi devo dare il permesso premio come i fratelli Graviano ma voi sapete chi sono i fratelli Graviano i fratelli Graviano sono quelli che hanno ucciso Don Pino Puglisi quelle che sono implicati nell'omicidio Falcone Borsellino ma questi hanno tanti di quei morti eccellenti sulle spalle e questi hanno fatto hanno già sono stati da 27 anni in galera sono i primi a chiedere già da adesso ancora il giudice non l'ha dato la sentenza loro già hanno fatto la richiesta per il permesso premio come si può dare il permesso premio a queste persone ma in questo senso lei fa parte della commissione parlamentare antimafia appunto per far comprendere anche i ragazzi cosa vuol dire cos'è questo ruolo così importante e cosa fa la commissione antimafia in tal senso e come funziona così proviamo a capire cos'è cosa può succedere cosa sta succedendo in termini di cambiamento allora la commissione antimafia è una commissione che è suddivisa per comitati intanto è una commissione di indagine noi abbiamo i poteri di indagine come la magistratura è divisa per comitati ogni comitato ha un titolo e segue un filone di indagini io ho il comitato sui testimoni collaboratori e imprenditori vittime di racket e di usura bancaria poi c'è il comitato sulla trattativa stato mafia sulla mafia nigeriana comunque tutti argomenti che riguardano la mafia in tutte le sue sfaccettature una volta che noi abbiamo questo comitato io sono presidente di questo comitato audisco testimoni collaboratori e imprenditori da quelle audizioni se c'è qualcosa di urgente che ne va di mezzo la vita di qualche persona noi da subito facciamo una nota al servizio centrale di protezione oppure se c'è un illecito alla procura e la procura poi farà ulteriori indagini e porterà alla luce le problematiche se invece è una questione di sicurezza la proponiamo al servizio centrale di protezione nonché alla commissione ex articolo 10 che è una commissione speciale che sta al biminale e si occupa di testimoni e collaboratori alla fine di queste audizioni diciamo che abbiamo udito queste persone si fa una relazione dove in questa relazione si dice lo stato attuale delle cose le problematiche che abbiamo rilevato se il caso delle modifiche delle leggi esistenti e vigenti io per esempio su questa relazione sto inserendo una cosa che non si applica la legge vigente cioè di attenzionare la legge vigente perché non viene applicata in più ho depositato due proposte di legge proprio a ridosso di questa relazione che dovrò fra poco depositare che fra l'altro sarà pubblica la troverete la troverete sul sito del senato quando verrà pubblicata calcolato un paio di mesi e già dovrebbe stare e da lì si cerca di risolvere le problematiche col servizio centrale di protezione per far applicare la legge da lì nascono delle leggi diciamo che la commissione parlamentare antimafia è una delle commissioni più importanti tant'è vero che si era pensato siccome non è una commissione fissa che c'è ogni anno ogni anno viene votata per essere riformata allora volevamo farla diventare una commissione permanente come la commissione giustizia commissione agricoltura volevamo farla diventare una commissione permanente vediamo vediamo se riusciamo comunque penso che nessuno abbia problemi a rivola per farla andare avanti perché io pochi giorni fa mi sono laureato in scienze politiche e ho fatto una tesi sulla commissione parlamentare antimafia nessuno aveva mai fatto una tesi sulla commissione parlamentare antimafia ho avuto tante difficoltà perché non trovavo molto materiale però comunque diciamo che ho giocato un po' in casa dai sono riuscita a fare orgogliosamente fiera di come è andata complimenti allora un doppio complimento anche per quest'altro traguardo raggiunto che dite ragazzi ragazzi se avete voglia di scrivere nella chat quanta storia e quante parole molto importanti le pongo quest'altra domanda e andiamo proprio verso le studentesse e gli studenti ad una ragazza che oggi cosa possiamo dire oggi alle ragazze e ai ragazzi cosa avrebbe voglia di condividere con loro perché ovviamente non tutti vivono determinate situazioni e magari del nostro pubblico qui oggi solo poche ragazze o forse nessuno vive all'interno di una certa famiglia mafiosa o in alcune situazioni ma tutti ci troviamo in qualche modo a doverci ribellare ogni giorno a qualcosa a poterci ribellare non lo facciamo per cui intorno a questo tema mi piacerebbe porre a lei una domanda che possa dare questo stimolo al nostro pubblico allora io ai ragazzi dico sempre quello che mi disse a me Paolo Borsellino che è ancora attuale lui diceva leggi studia e impegnati perché la cultura è alla base di tutto la mafia regna dove c'è ignoranza dove non si capisce il significato della vita dove non si capisce il significato della cultura dove non si capisce il significato della vera famiglia perché i mafiosi parlano di famiglia ma una famiglia allargata di delinquenti invece io parlo della famiglia padre madre figli il rapporto familiare è alla base di tutto dovete avere fiducia nei vostri genitori dovete confidarvi con loro discutere magari non è che partiamo parlando della famiglia del mulino bianco per carità perché si deve anche discutere litigare anch'io ho litigato con i miei genitori con mio padre mia madre mia sorella per carità e parlare molto anche con i professori perché molto spesso il prof si vede come una persona molto lontana si è diffidenti perché sai quella professoressa magari poi mi può dire no i professori sono quelle persone le maestre sono quelle persone che ti stanno vicino a tante ore durante il giorno che magari noi ragazzi quando andavamo a scuola non ci rendevamo conto che loro veramente sanno perché ci guardano ci osservano ci valutano sanno le nostre problematiche perciò se c'è un problema di qualsiasi forma rivolgiamoci a loro rivolgiamoci facciamo avere un buon rapporto fra scuola e la famiglia che è il rapporto che darà la forza allo studente per apprendere bene i valori della vita per andare avanti a testa alta se non ci sono questi valori e se non vogliamo veramente tutto questo non ci potrà essere cambiamento la mafia si sconfigge anche dietro i banchi di scuola anzi principalmente dai banchi di scuola perché lì noi non dobbiamo combattere la mafia perché denunciamo no la mafia si combatte anche con penna e foglio di carta con il libro loro arrivano con i mitra e noi arriviamo con la cultura noi arrivano con che ci vogliono come dire mettere i piedi in testa e noi quella testa non ce la dobbiamo fare schiacciare avere avere come si dice la forza di dire no niente raccomandazioni è preferibile prendere un voto basso però quel voto è tutto tuo è preferibile andare a lavorare e fare un lavoro umile però è tutto tuo io quando sono uscita dal programma di protezione l'ho voluto fare subito perché sono stata pochissima nel programma perché quando mi davano quei soldi mensilmente dello Stato mi sentivo umiliata volevo andare a lavorare quando arriva in commissione centrale mi dice ma lei cosa vuole faccio io voglio tornare a pagare le tasse adesso me ne pento un poco perché sono veramente tante le tasse da pagare però io chiedevo di pagare le tasse sapete perché chiedevo di pagare le tasse perché voleva dire che se dovevo pagare le tasse avrei lavorato mi sarei reinserita nel mondo del lavoro io subito dopo uscita dal programma sono andata a lavorare per tre anni in campagna ho tre anni di contributi agricoli perché lì per lì non riuscivo a inserirmi con le mie forze lo Stato non mi aveva aiutato e cosa facevo potevo far morire i miei figli di fame no e sono andata in campagna a lavorare nel frattempo mi guardavo attorno e io ho aperto una piccola azienda e poi questa azienda è diventata grande insomma nella vita se si vuole rimboccandoci le maniche si può cambiare dobbiamo cambiare il pensiero mafioso di dire ma come faccio un concorso se non ho la raccomandazione non vado avanti ma se raccomandazione non ne aveva nessuno eravamo tutto allo stesso livello e venivamo portati avanti per meritocrazia deve andare avanti la meritocrazia non perché conosco il colonnello il prete l'avvocato no sono bravo vado avanti non sono bravo sto un po' indietro ma prima o poi arriverò lo stesso bene la ringrazio davvero tantissimo a questo proposito voglio condividere con lei una riflessione ponendole un'altra domanda appunto perché come dicevo non tutti vivono determinate situazioni o vivono in alcuni territori spesso ci si dice che no a nord la mafia non esiste e non la vediamo non vediamo più il mafioso con la coppola ammesso che sia quella l'immagine che ancora si ha e c'è una certa cinematografia tante serie televisive che invece hanno esaltato questa immagine l'immagine di di alcuni gruppi mafiosi l'idea in qualche modo c'è una vera mitizzazione di certi personaggi cosa che io personalmente non condivido in nessun modo e spesso viaggiando per tantissime scuole anche soltanto nella ricreazione vedevo giocare dei ragazzi scherzando a imitare questo o quell'altro mafioso come se fosse quasi una medaglia o un premio lei cosa ne pensa di questo è proprio così si vive poi così veramente così bene all'interno di una famiglia mafiosa le ragazze vivono davvero queste storie da Hollywood con piscine e situazioni incredibilmente belle con grandi abiti gioielli e tutto il resto no queste sono tutte chiacchiere abiti e gioielli penso che possono avere sono i narcotrafficanti perché hanno miliardi e miliardi di cocaina che spacciano che forse forse quelli hanno tutto ma io mio socio tutti questi miliardi non glielo mai visti il mafioso molto spesso non lo fa per i soldi lo fa per il potere per il potere che ha sui territori non i soldi arrivano perché magari poi chi dice sì alla cocaina tutte queste cose i soldi arrivano però il vero mafioso sicuramente non spende i soldi così in piscine in lusso questi sono diciamo quelli i narcotrafficanti quelli che a meno io nella famiglia di mio socio tutto il lusso non l'ho mai visto mio socio addirittura forse l'ho visto vestito con le giacche e cravatta quando è morto perché o quando è morto o si è sposato il figlio non l'ho mai visto tutto sto lusso la cosa che che dico io che io butterei nel cestino tutti questi film monnezza perché sono film monnezza che fra l'altro non rispecchiano sicuramente la verità e poi c'è una dire una cosa che il mondo della mafia per chi entra in quel sistema mafioso ha due strade uno è l'era perché prima o poi vanno a fine in galera la seconda è che ne esci morto non c'è altra alternativa entrando in quella strada entrando in quella vita non esci vittorioso ma non esci proprio vivo esci in forma orizzontale perché chi tenta poi di uscirne fuori o è un collaboratore di giustizia e per tutta la vita deve comunque nascondersi perché prima o poi lo sappiamo la criminalità organizzata che sia mafia andrà anche tocca morra non dimentica è inutile che si dice che dopo tanti anni siete fuori pericolo non è così perché vi dirò di più che il piccolo vero e proprio si corre dopo tanti anni che poi queste persone alcune di queste magari escono fuori dalla galera perché inizialmente quando li mettono in carcere non corri il rischio o ti possono magari far arrivare qualcun altro che ti che ti viene ad ammazzare incaricano qualcuno ma fisicamente la persona che tu hai mandato in galera non ti può più far del male quando stai in galera ma ti farà male sicuramente dopo vent'anni queste persone non dimenticano la mafia la mente ce l'ha molto molto lunga invece molto spesso questa cosa si sottovaluta la sottovaluta il servizio centrale di protezione quando manda fuori dalla 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 la protezione le persone magari non facendogli il cambio di genetà perché in quel momento è l'unica cosa che lo potrebbe un po' oscurare lo lo butta fuori dal programma e e lì lì è che corri veramente i rischi magari dopo 30 anni eh non dopo un giorno grazie ancora guardi qui arrivano tantissimi messaggi nella chat qualcuno scrive bel messaggio bravissima bellissimo messaggio complimenti complimenti per il coraggio e un messaggio bellissimo scrive Cinzia parole sante bravissima Michela ultimissima domanda poi la la lasciamo anzi la ringrazio perché guardi io sono abituato a lavorare a teatro quindi facendo dei monologhi di un'ora vedo che lei è andata avanti ininterrottamente quindi anche complimenti anche per la tenuta dunque la domanda di Michela Cece dice pensi che ci sia ancora tanta omertà intorno alla mafia e poi una domanda io e poi chiudiamo c'è tanta omertà non solo intorno alla mafia c'è tanta omertà anche nella vita quotidiana allora che senso ha denunciare delle malefatte e poi se una persona a te vicina ha bisogno e tu ti giri dall'altra parte questo è di debellare la nostra essere mafiosi dentro perché la mafia non è solo coppola e lupara come diceva poco fa lei la mafia ormai va avanti con pc con io dico giacca cravatta e pantaloni di vigogna non è più la classica mafia di una volta dobbiamo essere noi proprio da guardarci attorno attorno a noi di chi ha bisogno di dargli una mano se c'è per esempio i ragazzi se c'è un vostro compagno che fa uso di stupefacenti molto spesso i ragazzi lo allontanano ebbene non si deve allontanare questa persona si deve prendere per mano perché non si deve costringere nessuno ma prendere per mano e fargli capire che la strada che entra preso non è una strada giusta cercare aiuto anche un amico parroco cercare aiuto nei professori nei propri genitori parlare con questo ragazzo e condurlo nella giusta via questo è non avere più il senso mafioso perché? perché la mafia si annita nella droga perché questo ragazzo un giorno potrebbe diventare un altro traffico potrebbe venire a vendere la droga ai tuoi nipoti allora quel giorno non stiamo solo salvando quel ragazzo ma quel giorno stiamo salvando la nostra vita la vita dei nostri cari la vita dei nostri amici questo dobbiamo fare non c'è bisogno di grandi denunce non c'è bisogno di diventare testimoni di giustizia basta seguire le regole e la figura del testimone di giustizia non avrà più motivo di esistere così nessuna Pieragliello dovrà cambiare nome perché questa è la sofferenza più grande perché io che amo mio padre amo la mia famiglia ho amato la mia terra amo Partan non è giusto che io devo andare via dalla mia terra io devo tornare vittoriosa a testa alta nella mia terra di dire a questi signori siete voi che dovete andare via non sono io devo dire che il suo percorso e la sua storia dimostra che è possibile ma se c'è un aiuto in più è ancora meglio comunque la ringrazio davvero tantissimo e so che la ringrazio a nome di migliaia di studentesse e studenti insegnanti che hanno seguito questo nostro ultimo incontro io le faccio un'ultima domanda per salutarla ed è questa durante l'omicidio di suo suocero ha sparato leggevo che ha sparato Matteo Messina Denaro leggevo da qualche parte o durante l'intervista sentivo questo mi domando secondo lei lo arresteranno mai? no il mandante di mio suocero diciamo che era nella terra di Matteo Messina Denaro è successo l'omicidio e se non succede nessun omicidio se non c'è lo chieda la parte di Matteo Messina Denaro ma i mandanti erano altri suoi amici chiamiamoli amici che poi non sono stati compagni di merende che avevano condiviso con lui tantissimo ma che poi alla fine lo hanno tradito perché il mio suocero non è che era quello della mafia buona per carità perché mafia buona non esiste però diciamo era che quello che si opponeva all'avvento della droga nel paese di Partanna e lui si è opposto insieme a qualche altro boss che sono stati uccisi ma non per questo era un boss buono perché faceva bene altre cose ancora pure più gravi bene la ringrazio la ringrazio davvero tantissimo per questa sua testimonianza e io consiglio a tutte le ragazze e ragazze di leggere il suo libro e mi permetto di fare questo momento di pubblicità perché lo conosco il libro è totalmente proprio volontario come pubblicità che vogliamo fare al suo libro perché merita di essere letto per cui maledetta mafia il titolo del libro consiglia gli insegnanti di proseguire questo nostro incontro attraverso la lettura e speriamo di incontrarla dal vivo con altre migliaia di studenti magari un giorno e complimenti ancora per il suo lavoro e per il suo percorso lo so se vuole dire qualche altra cosa per salutare gli studenti e poi per chiunque mi vuole scrivere io sto su Facebook e quasi sempre rispondo quasi velocemente sono abbastanza veloce a scrivere e niente ho anche un indirizzo mail ufficiale che è quello della camera lo troverete sul sito della camera mi fa piacere parlare con tutti mi fa piacere rispondere ai ragazzi perché diciamo che su questa cosa io sono come si dice trago beneficio io dal comunicare con i ragazzi e di parlare con loro sembrerebbe che la cosa è l'incontrario che io do qualcosa ma in realtà sono io che prendo la linfa vitale di questi ragazzi che vogliono il meglio per il nostro paese perché dovete pensare una cosa molto spesso chi pensa di governare il nostro paese in realtà non lo vuole governare sempre come altri vuole il potere invece la posizione che io rivesto adesso la posizione che molti dei miei colleghi rivestono adesso è una posizione molto importante uno perché il popolo ci ha portato qua due perché dobbiamo fare l'interesse del popolo e molto spesso questo non viene fatto fino a quando io avrò un minimo di fiato fino a quando avrò le forze di dire la mia e di litigare su questa cosa perché molto spesso ci litigo io sarò una donna del popolo per il popolo italiano grazie noi la seguiremo e la ascolteremo sempre con piacere speriamo di ritrovarla presto magari con altri studenti chissà è stata una mattinata per me estremamente importante la ringrazio tantissimo grazie a prestissimo grazie grazie buon lavoro e complimenti per tutto bene ragazzi ragazzi che dire che ne dite tantissime parole tante riflessioni riascoltatela ascoltatela nuovamente con le insegnanti parlatene grazie a voi Anna Tardio Rutelli grazie a voi Rossella Paola Alessandra Cristiano vedo che state arrivederci scrive Vincenzo vi ringrazio tantissimo è stato davvero bello da ottobre poter condividere con voi questo percorso non è detto che tra qualche giorno non si decida di organizzare un altro incontro ma il nostro ciclo da gennaio a oggi si conclude con oggi volevamo condividere questa storia sia perché abbiamo affrontato il 19 marzo la precedente live con altri testimoni importanti intorno a questo tema che per noi è fondamentale va affrontato costantemente non soltanto durante una giornata una volta all'anno ma tutti i giorni per cui portate avanti sempre questa riflessione nei vostri territori quando vedete che qualcosa non funziona guardatevi intorno l'incontro più bello scrive Ludovica ti ringrazio è bello che l'ultimo sia il più bello per cui cercheremo di far sì che anche il prossimo superi questo anche se questo è stato estremamente forte perché contiene la grande forza di una donna una ragazza come voi che ad un certo punto ha deciso di alzare la testa e vivere tutto quello che ha vissuto per cui donna veramente coraggiosa scrive qualcun altro Dennis Massimo scrive molto bello grazie mille ragazzi ragazzi ringrazio voi se avete voglia proviamo a salutarci come facciamo sempre con menti.com grazie infinite per gli stimoli scrive Silvia se andate su menti.com proviamo ad andare tutti insieme e così scriviamo la nostra città inserite il classico codice e se avete voglia mettete il nome della vostra città così provo mi piacerebbe salutarvi un po' tutti so che ci sono tra l'altro oggi degli studenti nuovi da paesini e cittadine nuove che non hanno mai partecipato tra cui ho letto Trinitapoli che è un paesino che so che si trova in Puglia non sono mai passato da quelle parti quindi saluto i ragazzi e le ragazze che oggi si sono collegati da Trinitapoli tutta la Puglia Calabria Sicilia Lombardia so che è tornato Cernusco sul Nariglio Lecco c'è Firenze oggi Perugia il Piemonte Bra Fidenza i ragazzi di Fidenza che hanno vissuto un'esperienza con noi durante l'assemblea d'istituto Venezia Anagni Terlizzi Brescia siete davvero Cremona Castelvetro Piacentino Fidenzuola Fidenza che dire Fiorenzuola Darda è bello ciao chissà chi iscrive da Fiorenzuola se c'è qualche classe da lì vi saluto tutti oggi in questo momento non mi trovo a Fiorenzuola dove vivo ma in un altro luogo dove sto facendo dei lavori e spesso tornerò lì e che dire vi ringrazio tantissimo è stato bello ringrazio tutte le insegnanti quello che abbiamo vissuto da ottobre a oggi è stata una condivisione volevamo condividere questo con voi in assenza del teatro non abbiamo voluto condividere spettacoli teatrali se non l'audio ascolto di alcuni spettacoli che vi invito all'interno della nostra pagina di riascoltare tra l'altro cliccate seguite la pagina se avete voglia di continuare ad ascoltare gli audio ascolti che creeremo in attesa di ritrovarci a teatro questo è quello che abbiamo pensato di poter condividere con voi lo abbiamo fatto nello spirito che ci contraddistingue sempre che è quello della condivisione della riflessione all'interno di un percorso che noi vogliamo portare avanti tra creatività e mondo della scuola che è quello che noi crediamo possa un po' portare un piccolo cambiamento dentro noi operatori teatranti e non solo è dentro tutto il mondo della scuola vi ringrazio tanto è stato bello stare con voi c'è Sonia Emilia qui giù che vi saluto anche lei Andrea vediamo se riusciamo a vederli tutti vederle tutte non so non riusciamo benissimo grazie ragazze grazie ragazzi in bocca al lupo grazie all'insegnante ancora scrivete seguite la pagina e ci vediamo da ottobre in avanti a teatro e chissà magari in aprile o maggio organizziamo qualche altra intervista che vedo che piace molto e a me piace moltissimo condurre ciao 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 parlatene tanto ciao 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 ciao